Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Atmosfera instabile nella giornata di mercoledì sulla Liguria, con qualche fenomeno sparso. Non mancheranno comunque pause asciutte, dampie e schiarite. La ventilazione soffierà sostenuta, con Mar Ligure localmente anche agitato, specialmente a largo. Vediamo ora nel dettaglio la provincia di Imperia. Tempo a tratti instabile, con il rischio di qualche fenomeno localmente a carattere temporalesco. Alternati comunque da pause asciutte, dampie e schiarite. Temperature massime, in conseguente calo di qualche grado. Sulla provincia di Savona, situazione pressoché analoga, con qualche possibile nota instabile. E qualche fiocco di neve sui settori interni. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 10-13 gradi. Sulla provincia di Genova, situazione praticamente analoga, sempre con qualche fenomeno sparso. Che rischierà di essere localmente a carattere temporalesco. Ma non mancherà comunque qualche timida schiarita. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 12-13 gradi. Sul Tigulio, tempo a tratti instabile, nella giornata di mercoledì, con qualche fenomeno a macchia di leopardo, non mancherà comunque qualche timida schiarita e qualche pausa asciutta. Le temperature massime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi. Sullo spezzino, cieli in prevalenza grigi, con qualche fenomeno localmente anche intenso e a carattere temporalesco. Non mancherà comunque qualche pausa asciutta e si farà strada anche qualche timida schiarita. Nel corso della giornata di giovedì il tempo sarà in miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi, senza conseguenze in termini di precipitazioni. La ventilazione sarà in attenuazione con marligure calmo o poco mosso e temperature massime in lieve ripresa. Ma per tutti i dettagli, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.